Al cuore non si comanda, non sono io a dover auspicare questo o quel futuro per i miei figli. Ci sono anche tanti Rom che in Italia vivono persone per bene nelle case. Mi rifiuto di pensare a mio figlio o mia figlia che entra in un campo Rom perché il papà lo viene a prendere per l'orecchio. Però ci sono tante persone per bene, a prescindere dal colore, dalla razza e dalla religione, che vivono rispettando i diritti e i doveri che rispettano tutti gli altri italiani.